Bentornati, partiamo subito perché volevamo continuare a approfondire questo grande tema del cuore immacolato e allora per non perdere tempo tuffiamoci subito nel suo sguardo, nella bellezza che esce, che emane nello sguardo della Madonna, il suo sguardo che ci attira, che ci parla, che ci cambia la vita, questo sguardo che senz'altro hanno visto tre bambini, tre bambini di Fatima perché loro sono stati attirati soprattutto dalla sua bellezza, forse non tutti lo sanno, una cosa che ci sfugge spesso è che i bambini che hanno visto a Fatima la Madonna, non tutti hanno avuto la stessa compressione di quell'evento, di questa apparizione perché Lucia e solo Lucia poteva vedere, sentire e parlare, dialogare con la Madonna, Giacinta la vedeva e la sentiva ma non poteva parlarne, ne ha parlato e abbiamo Francesco che ha solo visto, pensate che in questa piccola chiave lettura possiamo tra anche altre cose che ci escono fuori e domandarci, noi, io, te, lei, padre Jason, noi possiamo veramente essere trasformati, essere toccati da questo evento dopo cento anni se non l'abbiamo visto, non l'abbiamo sentito, non abbiamo potuto parlarne? Qual è la possibilità per noi di essere veramente trasformati come sono stati questi bambini? Certo, ma penso che questo volto giovane ci ricorda che ha Fatima, la Madonna apparve come uno che avesse 14-15 anni, è una donna bella, ma appunto questo squadro attento, ognuno di noi ci ricorda che ognuno di noi chiamati alla pienezza del nostro battesimo, che non dipende dai fenomeni che abbiamo potuto vedere, come ricorda Teresa Davila, non c'è da dire, ah, se avessi visto Gesù di persona come la Maddalena, anche io mi convertirei, perché sappiamo, la Madonna intercede per noi e il Signore ci dà i stessi mezzi, ci dà l'Eucalistia, la sua parola, in modo che noi nella vita ordinaria possiamo tutti camminare verso la santità, la stessa Madonna che apparve ai tre pastorelli è presente nella nostra vita, non è lontana, ma come ricorda questo squadro è veglia su di noi con amore e premura, ma materna, desiderosa che ogni passo della nostra giornata sia un passo verso Dio. Quindi c'è anche per noi il posto, c'è il posto per tutti, perché oggi non possiamo vedere, sentire, dialogare, ma in realtà lo possiamo fare, perché abbiamo delle prestazioni varie, dei dipinti, abbiamo dei film bellissimi, c'è un film straordinario che non so se tutti l'hanno visto, io ho visto anni e anni fa un film, il tredicesimo giorno, fantastico, che rappresenta questo evento di Fatima in maniera molto bello, soprattutto perché comincia bianco-nero e poi quando la donna non appare cominciano a vedersi colori, questo per dirci che la nostra realtà grigia, bianco-nera, quando viene toccata la grazia di Dio diventa piena di colori. Sì, e questo un po', e lo dico perché io ho questa sensibilità, sapete, per il colore, quindi li voglio amplificare questa sensazione, perché il mondo che ci aspetta è ben più di quello che riusciamo a vedere, quindi se noi ammiriamo la bellezza di questo creato, quando saremo di là, tutto quello che vedremo qui è solamente una cosa bianco-nera, un qualcosa di un preludio di ciò che ci aspetta. Allora, ma come possiamo giungere lì? Come possiamo veramente essere, ma non solo certi, ma come possiamo entrare in cammino verso il paradiso? E non solo noi, perché non si tratta di una cosa personale, ma si tratta di portarsi anche dietro tutti, perché Gesù e Madonna vogliono che noi, non solo noi ci salviamo, ma che noi portiamo con noi mari di persone. Pensate ai santi che hanno, con il loro esempio, con la loro vita nascosta, hanno attirato migliaia e migliaia di persone, come abbiamo Santa Faustina, come abbiamo Giovanni II, tanti grandi santi che hanno fatto altro che la loro esperienza personale dell'incontro si è trasformato in qualcosa di veramente universale. Vero, vero. Sappiamo, Maria, Fatima chiede riparazione e possiamo pensare a livello personale e anche a livello comunitario e ecclesiale, cioè riparare, quando si danneggia qualcosa cerchiamo di riparare, così riparare vuol dire anche per noi amare in riparazione per quando non ho amato, amare per chi non ama, lodare Dio per chi bestemmia, fare dei passi nell'altra direzione, piccoli passi, uno dopo l'altro. La Madonna ci propone, per esempio, i Cinque Sabadi, che ci proponono un cammino nell'altra direzione rispetto al peccato, attraverso la comunione e la confessione, attraverso la meditazione dei misteri del Rosario, consolare il cuore di Gesù e amare in senso anche ampio, sapendo che il nostro avvicinare a Dio non è per caso, per niente insignificativo, ma piuttosto ha un significato legato agli altri, Santa Teresina lo diceva con questa analogia, è come un fiume che va nell'oceano, porta con sé i tuoi tesori, allora tutti noi come lei possiamo dire attirami Signore e certamente questo avrà un flusso sugli altri. Sì, perché dobbiamo veramente cogliere questo vero significato di Fatima, noi quando pensiamo Fatima veramente abbiamo di fronte una profondità di Gesù, la Madonna, che decidono di far vedere a noi, a tutti quanti, non solo le meraviglie, la Madonna con la sua bellezza, ma anche la realtà, perché come abbiamo parlato anche in altre puntate, c'è la visione dell'inferno, c'è la visione di quello che il mondo, dove il mondo va a finire se continua a pecare, ed è un messaggio tutto attuale, sono passati cento anni ma il mondo è ancora peggio, la realtà in cui viviamo è molto più sommersa dal male che non cento anni fa, quindi se noi parliamo, se vogliamo invocare il trionfo del cuore immacolato, la strada è, direi ancora lunga, perché siamo ancora lontani, qui ci vuole veramente un miracolo, una grazia, perché ci stiamo allontanando da quello che il mondo ci richiede, ma anche di quello che siamo veramente, Dio non vuole altro che noi siamo quello per cosa siamo nati, per cosa siamo sacrati, quindi la nostra vita deve essere sempre un cammino verso la perfazione di quello che siamo veramente, a cui Gesù ci ha chiamato, è il nostro pregiato della nostra vita, e quindi attraverso anche questa pratica di 5 sabati del mese, che è una richiesta di tutto particolare, è importante, perché in questo modo possiamo già partecipare piano piano in questo cammino verso il trionfo del cuore immacolato, parliamo di questo, del trionfo del cuore immacolato, che cosa vuol dire? Certamente ci ricorda che Maria nel corpo mistico è ancora presente e agisce e è con amore di madre, veglia sul mondo e ci chiede di collaborare, quindi non dobbiamo pensare della nostra vita di cristiane come se fossimo noi i protagonisti che dobbiamo agire di testa nostra, ma piuttosto umilmente metterci ai suoi piedi attraverso la consacrazione e seguire quello che ci indica, pensiamo a come lei chiese la consacrazione della Russia e come questi passi hanno avuto conseguenze nel secolo scorso e continuano a avere conseguenze, quindi non ci presenta Fatima una Madonna sulle nuvole, ma una Vergine Maria che è presente nella storia, nel corpo mistico che desidera la salvezza di tutti e non vuole che nessuno si chiuda alla luce di Dio e in modo definitiva soprattutto e allora in qualche modo questo trionfo è qualcosa in cui siamo coinvolti, ma non come protagonisti, ma come strumenti che si consacrono a lei per collaborare. Sì, la storia, la storia è stata segnata da questo evento perché dobbiamo ricordare sempre che il Dio è il padrone della storia, siamo tutti quanti e tutto il tempo siamo nelle mani sue, quindi se lui dà una soluzione, se lui decide, se Dio decide di mandare la sua madre, la madre di Dio, in mezzo a noi, a rivelare queste cose, queste meraviglie, questi secreti, ma anche ci dice la medicina, che cosa dobbiamo fare? Perché ci possiamo chiedere, ma io, io, tu, da solo, cosa possiamo fare? E la mamma non ci ripete, tu e io possiamo fare tanto, perché se io e tu, come già anche madre Teresa Calcutta, ognuno fa la sua piccola parte, è una goccia nell'oceano, ma se mancasse questa goccia, mancherebbe qualcosa di importante, quindi non ci dobbiamo scoraggiare di fronte alla potenza del male a questi tempi, perché anche la piccola goccia che diamo a noi, il nostro piccolo contributo, può fare differenza. Certo, certo e Maria ci ricorda che l'ordinario può essere straordinario, pensiamo a qualcuno che ha vissuto tutto sommato da casalinga, una casa semplice e povera che ricordiamo qui a Loreto, cucinare, lavare, servire, eccetera, ma che tutto questo era carico di vita soprannaturale, che si ha proprio una visione dopo la morte e quindi ci ricorda che ognuno di noi, la nostra missione può continuare anche dopo la morte, ma nella misura in cui in questa vita siamo vissuti nella fede, nella speranza e nella carità, anche nelle piccole cose, non importa se gli altri lo sanno, il Signore ci vede sempre, viviamo sotto il suo sguardo. E qui mi viene fuori, mi viene in mente subito la grandissima, come posso dire, l'umiltà della Madonna, perché se noi pensiamo come lei veramente sconfigge il male, come lei, come nell'epocalisse che schiaccia la testa del serpente, lei lo fa con umiltà, non lo con la potenza, non usa le armi, non usa la violenza, la forza, l'umiltà sconfigge il male, sconfigge il Satana, è l'unica l'arma potente che abbiamo in mano, è lo stesso l'arma che ha avuto anche San Michele Arcangelo, che era un angelo, diciamo, umile, la grandezza sua che è stata attribuita dopo, quando lui ha veramente avuto questa, ha deciso, l'umilmente ha deciso di mettersi da parte di Dio, quindi l'umiltà e la fedeltà fanno sì che sono forti, abbiamo poi in mano un altro grande, una grande arma che è il rosario, perché la Madonna chiede di pregare rosario, giusto? Sì, sì. Quindi abbiamo questo rosario che molte volte viene messo da parte, viene, diciamo, non riusciamo a capire ancora la forza, il significato e la ricchezza che il rosario, che non è altro, che veramente è la contemplazione della vita, dell'Evangelo di Gesù, perché noi dobbiamo la loda e la londa, ma soprattutto stiamo vivendo insieme a lei, accanto a lei, tutti i misteri della fede, dell'Evangelo, quindi siamo insieme con Gesù, con suo figlio, lei ci porta con la mano, con la sua mano, ci porta a contemplare, a vivere per conoscere, conoscere per amare il suo figlio, lei riporta sempre al suo figlio, non tiene mai la gloria per se stessa, tutta la gloria porta a lui e noi dobbiamo fare altrettanto, quindi loda della madonna, tiriamo veramente, impariamo da lei, perché lei è la nostra maestra da fede, all'ultimo padre Jason, cosa possiamo ancora dire ai nostri spettatori? Certamente questo lasciarsi prendere mano da Maria, guardate a lui, dice il Salmo, guardate a lui sarete raggianti, Maria ci aiuta a guardare a Gesù, perché la luce di Dio possa infondersi nella nostra vita, possa irradiarsi poi ai nostri parenti, alle persone intorno a noi e nell'ordinarietà, quindi Maria attraverso il Rosario ci aiuta a guardare al Signore, fissare il suo sguardo, la sua sacra umanità, affinché meritano questi misteri, veniamo illuminati e i misteri anche dolorosi o gioiosi della nostra vita siano trasfigurati dalla luce del Signore e diventano spazio per Dio, quindi Maria ci invita a questo cammino umile, perché è proprio l'umiltà che fa spazio a Dio che venga in noi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio perché abbiamo insieme percorso questo cammino verso Fatima, poi siamo dall'Affra Fatima, siamo riusciti a capire e vi abbiamo bozzato un po' quello che ci richiede, ci richiede la presenza della Madonna, che viviamo nei tempi della Madonna, lei è in mezzo a noi, ci prende per mano, cammina con noi e ci porta tutti quanti dal suo figlio Gesù. Allora vi ringrazio e Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!